Il risultato è il nostro sfavore purtroppo, un 3-1 che ci pesa come ormai in una situazione come siamo in questo periodo, come hai visto la prestazione della squadra in generale e più che altro in condizione delle prossime tre partite? Ci stava la prestazione, se uno avrà il giornale e guarda 3-1, è stata una partita dove siamo stati nominati, una partita dove siamo stati duri, ci fece, le prestazioni ci stanno, chi ha visto la partita, si è tolto il caso di un argomento netto per pareggiare, ne ho preso quello che ci ha pensato, non ha nessun errore, il nostro portiere non ha fatto nessuna parte determinante, quindi questa prestazione è importante in chiave blea, perché se i punti non arrivano come è successo ora bisogna avere la testa in chiave blea, in chiave c'è da vedere i risultati delle altre squadre come sono andate, quindi infine chi c'è speranza, io ci fido sempre nel fruttore che mi sarebbe salvato, è chiaro che oggi mi aspettavo una vittoria, quello si, io ho impostato la partita per vincerla, non avevo un attaccante di ruolo, infatti si è visto perché quindi si è mosso molto bene, soprattutto ho sicuro che al tempo abbiamo fatto delle trame importanti, importanti, quindi sono soddisfatto di questa azione e chiaro, non sono anche i tre punti, non sono bisogno di ammatterci più nei luoghi del play e andare avanti sempre con la testa rivolta al campionato che serve, quindi te vi parlerò anche ragazzi e cercherò di spremarvi, questa azione c'è stata, ok ti ringrazio, grazie 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 grazie